Peccato perché quel sinistro l'avevi preparato bene, la palla è andata un po' alta sulla traversa, ti sei mosso bene ma il risultato non era quello che volevamo. Esatto, il risultato sicuramente non era quello che volevamo e forse come ha detto lei con più precisione avremmo portato a casa la partita. Che cosa è mancato soprattutto quando con clemenza tra le linee sembravate aver preso l'inerzia del match? Gli unici 10-15 minuti perché poi la Carraresi ha fatto molto bene. Sì abbiamo giocato contro una squadra forte che gioca a calcio e penso che abbiamo fatto anche noi una buona gara e ripeto con un po' più di precisione avremmo portato a casa la partita. Bravi anche gli avversari sicuramente. Ti chiedo una cosa perché il presidente Sebastiani ai nostri microfoni ha detto Cernigoi ha fatto anche un po' una forzatura con la sua squadra al Seregno perché voleva venire a tutti i costi a Pescara. Già c'era la trattativa lo scorso anno, ci racconti un po' com'è stata questa sessione di mercato. Ma guardi, io ho fatto lavorare il mio procuratore, sicuramente venire a Pescara è il sogno di tutti, una piazza storica come Pescara. Quindi ho quasi, non dico pregato, però ho quasi pregato il mio procuratore di chiudere questa trattativa. Grazie. 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 Grazie.